Oggi c'è stata una riunione dei capigruppo dove si sceglieva se calendarizzare e quando la richiesta d'arresto per il deputato del PD, Franco Antonio Genovese. Ebbene, Franco Antonio Genovese è una persona che è accusata di aver rubato milioni di euro per la formazione professionale in Sicilia, nonché associazione a delinquere. Ebbene, il PD tramite il collega Rosato ci ha detto che la nostra è una strumentalizzazione becera, Brunetta ha parlato di rispetto per la persona e la De Gironomo ha parlato di rispetto e umanità per il collega Genovese ed inoltre ha detto che facendo un test di umanità noi non entreremo in Parlamento. Allora, per questi partiti quando si tratta di avere rispetto per i loro colleghi che hanno rubato dei soldi, questo deve essere massimo. Quando invece si tratta di rispettare tutti quei cittadini che hanno visto i propri soldi della formazione professionale rubati da questa gente, per loro il rispetto non esiste. Noi chiediamo che come previsto dal regolamento, tastativamente, perché questo è scritto nel regolamento, la Giunta riferisca in Assemblea e che l'Assemblea voti per l'arresto di Franco Antonio Genovese.